Il DS del Napoli, Giovanni Manna, sta muovendo il mercato con nuove strategie per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Oltre al già noto interesse per il difensore dell'udinese Giacca Biol, nei discorsi spunta un nome sorprendente, Nicolò Bertola, giovane promessa dello Spezia. Manna punta a rinforzare il settore difensivo prima della finestra di gennaio, e Bertola, classe 2001, potrebbe essere un inserimento prezioso. L'edizione odierna del mattino sottolinea che Manna è attento alla prestazione di Bertola, soprattutto considerando l'attuale situazione della difesa partenopea. Con Amir Ramani e Alessandro Buongiorno da titolari, il Napoli si trova a fronteggiare l'incertezza con Rafa Marin, che non ha ancora esordito in questa stagione, e la possibile partenza di Juan Jesus, che rende ancora più urgente la ricerca di nuovi talenti. La concorrenza per Nicolò Bertola si preannuncia però agguerrita. Oltre al Napoli, anche club come Milan e Juventus tengono d'occhio il 22enne difensore. La competizione per un giovane dal grande potenziale come Bertola è destinata a intensificarsi, visto che le grandi squadre di Serie A riconoscono le sue capacità e il suo valore sul mercato. Manna e ragazzi devono agire in fretta per assicurarsi l'acquisto di Bertola, che potrebbe rivelarsi un giocatore fondamentale nel sistema difensivo del Napoli. Con il campionato in corso e il mercato alle porte, il futuro del difensore dello Spezia è sempre più sotto i riflettori, promettendo di dare una scossa al mercato italiano nei prossimi mesi.